Leone e Bini dell'Atletico Vittoria è sempre difficile commentare una sconfitta per di più in finale è più brutto, avete forse sofferto a livello fisico e l'impegno di martedì per cui oggi purtroppo non siete riusciti a portare a casa la finale Sì, sicuramente eravamo stanchissimi, giocare due partite in 48 ore con questo caldo è veramente difficile e sfiancante ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo resistito 82 minuti poi purtroppo per un'occasione, anche se gli avversari hanno tremuto tutto il tempo però per un'occasione veramente fortuita hanno fatto il gol però ce l'abbiamo veramente messa tutta, abbiamo lottato su ogni pallone e è andata così semplicemente C'è comunque da farvi complimenti per la bella stagione c'è ancora la finale del primaverile da giocare e avete dimostrato anche oggi comunque di saper soffrire perché la partita di semifinale l'avete più o meno approcciata nella stessa maniera avete saputo soffrire e poi colpire oggi forse è mancato un po' di cattiveria e anche avete perso un po' a livello fisico Sì, noi abbiamo un'ottima tenta difensiva, sfruttiamo molto questo fattore abbiamo una difesa veramente granitica e siamo molto bravi nelle ripartenze solo che oggi fisicamente faticavamo molto e quindi anche questa nostra modalità di giocare non ha pagato come magari in passato però ripeto complimenti agli avversari ma complimenti anche a noi che abbiamo fatto una gran partita Va bene, allora rinnovo ancora i complimenti comunque e vi faccio un grosso in bocca al lupo per l'ultimo impegno della stagione Grazie Ciao Ciao